Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto Oggi andiamo a fare un tagliando di manutenzione su questa Golf GTI gloriosa Golf GTI 211 cavalli serie 6 col cambio manuale Andiamo a sostituire olio e tutti i filtri Ovviamente filtri Bosch, olio Castrol come dice la casa madre Ricordatevi che fino a fine maggio avrete il 30% di sconto su tutti i filtri Quindi filtro olio, aria, clima, gasolio, abitacolo, carburante, anche su un benzina Le candele, dischi dei freni, pastiglie dei freni Kit frizione, pompa acqua, cinghia di distribuzione Ammortizzatori e il kit volano a frizione Quindi su tutta questa componentistica avrete in fattura il 30% di sconto Vi ricordo anche che se avete una vettura in garanzia della casa madre La garanzia non decade anche se fosse un'estensione Se avete la necessità di avere un'auto sostitutiva Magari perché è venita un po' da lontano Non c'è nessun problema, noi ve la diamo ad uso gratuito Vi faccio un esempio Magari se portate la vettura alla sera Noi vi lasciamo l'auto sostitutiva e la sera dopo venite a prendere la vettura O nell'orario che andiamo a concordare Invece se alcuni di voi hanno la possibilità di rimanere qui in attesa Un'ora e mezza, un'ora, dipende dalla vettura Da tagliandare e che lavoro che c'è da effettuare Noi abbiamo un'accogliente sala d'aspetto Dove vi potete accomodare E noi su appuntamento vi facciamo il tagliando immediatamente Esempio, concordiamo il tagliando alle 9 del mattino Voi arrivate qui alle 9, ci sarà subito un addetto Che si metterà a lavorare sulla vostra vettura In un'ora, un'ora e mezza Effettuare il tagliando E voi ve ne andate di nuovo per la vostra destinazione Quindi cerchiamo di darvi un'assistenza a 360 gradi Ma anche di agevolarvi a 360 gradi Anche per chi viene da lontano Ma anche per chi è vicino Per info e preventivi Mi potete chiamare al 0141 96 92 14 O una mail a info.biancoauto.it Ciao a tutti amici e alla prossima